buongiorno ragazzi in questo nuovo video di minecraft vi saluto ok oggi cercheremo di fare una nostra miniera personale o di andare in una miniera naturale ah 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 si semi e si vigami bestie questi uomini perché ci sono eh le nutro tutte così non hanno più fame poi ho fatto una cosa a caso vorrei fare un piccone di ferro però non ho le cose necessarie quindi andiamo a prendere il legno ecco intanto sono andato pure in un incontro di wrestling wrestling con john cena dai veloce veloce se levi gandalf che non è il momento di venire ho incontrato pure gandalf facciamoci un piccone morti 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 metto a posto ste cose mangio cosa mangio questo si mangio mi difendo con l'ascia andiamo in miniera andiamo aspetta 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 ecco prendiamo questo carbone ecco questo lo lascio per un'altra volta che vengo vediamo se trova del ferro ma qua si cade cavo non c'è nel ferro si si ferro 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 comunque ferro molto ferro ciao ferro come stai ferro eh ma vaffan bagno muore brutto zumbi ma vaffan bagno t'ammazzo ti odio sei un niente cane guasta veloce 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 ritorniamo è stato un lunghissimo viaggio in miniera perché sto morendo quindi devo ritornare sono perso ah no che bello ho ritrovato la strada peccora t'ammazzo si adesso lo cuocio non c'è non c'è non c'è cuocio 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 prima te non c'è vabbè vabbè ecco non c'è non c'è non c'è non c'è ma c'è ma non c'è intanto ho visto porre un tempio di aerobrine della giungla ho trovato delle belle cosine pietra muschiosa poi della pietra rossa che ho usato per fare questo bellissimo meccanismo poi 4 lingotti di ferro e 5 lingotti d'oro quindi vediamo aspetta ma vedi devo prima testarla vediamo perché se uno arriva e cerca di prendermi le cose aia ma allora sei un parallelepipedo no non posso riprendere più la freccia sei un brutto parallelepipedo no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ehi. Beh, ma... Aspetta... Vabbè. Ma... Ma vabbè... Ma chi è che ho parlato? Torniamo e finisce qua il video perché io sono un... Verrà di po'. Grazie a tutti.